Calano i reati, le forze dell'ordine chiudono sempre più casi, ma occorre essere sempre prudenti per difendersi da brutte sorprese. È il messaggio lanciato dal perfetto di Belluno, Francesco Esposito. Noi abbiamo sostanzialmente un decremento dei reati commessi, in particolare per alcune tipologie di reato, tipo i furti in abitazione che tanto hanno preoccupato questa comunità. C'è un calo anche significativo nell'ultimo triennio che si aggira intorno al 25-30%. Abbiamo un calo complessivo dei furti, delle rapine, però questo chiaramente non ci soddisfa perché ci sono alcune tipologie di reato, in particolare le truffe e le truffe informatiche, che sono in forte aumento, fanno registrare un aumento pari al 30-40% e ci sono poi anche delle altre figure di furti, tipo furti su auto, che sono in aumento. Le forze dell'ordine stanno dando una mano ai cittadini, ma la cosa può sempre essere reciproca. Occorre anche una maggiore prudenza, attenzione e cautela dei cittadini quando devono proteggere i loro beni. Mi riferisco in particolar modo alle auto, che è bene non lasciare aperte, ma chiudere a chiave, anche quando si si allontana per pochi minuti. E alle truffe, come dicevo prima, perché è bene che prima di entrare in contatto con persone o con situazioni che possono presentarsi sospette, si faccia più di una verifica. E si faccia attenzione, soprattutto quando si naviga in internet e si entra in contatto con siti che non sono certificati e sicuri, e si faccia attenzione ad aprire le porte delle proprie abitazioni a persone che possono anche presentarsi come persone qualificate, ma potrebbero non esserlo e quindi potrebbero essere poi delle cattive sorprese.